Tra il 2014 e il 2020 l'Università della Calabria ha rinnovato completamente le sue infrastrutture energetiche, un progetto costato oltre 18 milioni di euro, di cui il Rettore Nicola Leone va particolarmente orgoglioso. La Calabria è una terra difficile, è una terra disagiata. L'Università si pone a modello, come modello per aiutare lo sviluppo, per aiutare la crescita socio-economica di tutto il territorio. E anche sul fronte della sostenibilità l'Università vuole esserlo. Negli ultimi anni abbiamo investito moltissimo sulle energie sostenibili, abbiamo saputo utilizzare al meglio dei finanziamenti della Commissione europea, realizzando il campus più verde d'Italia.